Era irreperibile da luglio, 5 anni, 4 mesi e 27 giorni, il conto degli anni di reclusione che il Tribunale di Firenze ha attribuito al 45enne napoletano Massimo Bonavita, una pena stabilita con un ordine di carcerazione firmato nel luglio scorso ma mai eseguito, perché Bonavita si è reso irreperibile ed è stato poi dichiarato latitante. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli non hanno mai smesso di cercarlo, certi che prima o poi avrebbe commesso un passo falso. Hanno monitorato i social, il web e i suoi movimenti finanziari e proprio sfogliando il suo estratto conto i militari hanno scoperto che fosse beneficiario del reddito di cittadinanza. Non solo, qualcuno prelevava sistematicamente l'intera somma accreditata poco dopo il bonifico, ogni volta in un ufficio postale differente, soprattutto in provincia di Napoli. Analizzando i vecchi movimenti è emerso che gli uffici postali fossero ciclicamente sostituiti in un faccio di 5-6 istituti. Il giorno dell'accredito si sono appostati nei pressi di ognuno di questi. Bonavita non ha tardato e in sera ad una bici elettrica si è presentato all'ingresso delle poste di via Primo Maggio nel comune di Giuliano in Campania. Le manette sono scattate subito e per il 45enne si sono aperte le porte del carcere di poggio reale.